Over, come Holding, si occupa di tutto ciò che è la residenza innovativa per i senior. Il nostro progetto residenziale, infatti, è non l'RSA, ma residenze assistite, che noi definiamo a misura di senior, che permettono una qualità di vita migliore possibile in una fase in cui magari si diventa un po' più fragili, ma in cui si mantiene ancora la propria autonomia. Il nostro obiettivo, quindi, è migliorare, come dicevamo, la qualità di vita e cercare di dare soluzioni, oltre alla residenziale, che siano in qualche modo importanti e che noi definiamo il vivere over. Vivere over per noi è affrontare gli over 65, gli anni successivi ai 65, nel miglior modo possibile. Di fatto, però, questa definizione dell'over 65 ci va un po' larga, direi, più che stretta, perché in realtà ogni fase della vita prosegue e, anche se si supera una certa soglia, in realtà è una continuità. Noi ogni giorno scopriamo persone attive, piene di passioni, di interessi, generazioni diverse, perché naturalmente avere 60 anni è molto diverso da averne 90, che devono avere delle risposte su misura. Il progetto, in particolare, Over & Senior, vede unita l'azienda nostra, Over, la Holding, fondata da Mariucci Rossini e Lino Di Lernia, a Senior Italia, proprio perché vogliamo rappresentare tutto il mondo dei senior e essere vicini a loro e alle famiglie. Partiamo dall'ascolto, dal cercare di capire come funziona questo mondo e dal fornire contenuti interessanti, perché il nostro obiettivo è raccontare il mondo reale, il mondo di persone che continuano un percorso di crescita. Quindi cerchiamo di comunicare con i senior di oggi, anche per aprire un canale agli over 65 di domani, che saranno tanti, vista l'evoluzione demografica. Over ha scelto, come azienda che si occupa di residenze per i senior diversi dall'RSA, il Silver Living, l'Assisted Living, che sono temi già ampiamente trattati in Europa, ma che in Italia sono molto innovativi, e quindi ha visto nella partnership con Senior Italia, nella partecipazione a questo evento della Festa dei Nonni, un momento veramente importante, perché ci permette di parlare alle persone che continuano a crescere da nonni, ma anche da figli continuano a essere, in un momento anche particolare, che è quello che stiamo vivendo oggi, e ci permette comunque di aprirci in modo positivo, verso un nuovo percorso, e nel condividere con le famiglie, con i nonni, le migliori opportunità possibili. Allora, questo è un servizio che chiamiamo Tutto Bene 24, e serve per dare al senior tranquillità durante la sua vita quotidiana, e anche alle famiglie, quindi semplicemente ha tre bottoni, perché è a misura di senior, è semplice, con questo SOS, lo premo, parlo a una centrale operativa, e posso essere messo in contatto per l'emergenza, oppure anche ai medici, che mi rispondono in diretta. Il giallo serve per chiamare il proprio caro, o chi vogliamo, possiamo decidere di mettere qualsiasi numero, e il verde risponde, quindi noi figli possiamo raggiungere i nostri genitori in qualsiasi momento. Il figlio a sua volta ha un'app, che permette di monitorare il battito cardiaco, e il luogo in cui si trova il suo genitore. In questo modo lo chiamiamo Tutto Bene, perché di fatto la domanda che ci facciamo tutti i figli è tutto bene mamma, tutto bene papà, in continuazione, e questa volta in questo modo lo sai. Andremo a distribuire questo prodotto nei negozi di elettronica, perché deve sembrare una cosa naturale, non è una cosa complicata, e dentro c'è una sim, già di Wind, Wind 3, che ha la tariffa flat, per cui non ci si deve preoccupare, viene attivato e 24 ore al giorno si ha una protezione e anche la comunicazione con i propri cari.